ciao a tutti eccoci qua oggi vi presento nell'anno nuovo è una bellissima un bellissimo scaldacollo con la pelliccia ho voluto fare questo questa pelliccia questo scaldacollo diciamo per abbinarla alla maglia che avevamo fatto se vi ricordate quella gilette in pelliccia un docchio di pelliccia adesso non ricordo come la chiamata e si mi sembra che al doppio di pelliccia ho voluto visto che avevo mi era avanzata questa questo bellissimo filato ho voluto fare questo bellissimo scaldacollo che verrà indossati in diversi modi cioè io adesso ve lo faccio vedere con la camicia ma dopo piano piano vi vedete anche altri modi da indossare senza sempre con la camicia anche con la maglia che avevo fatto così potete anche dare un'idea sul lavoro che volete realizzare l'ho fatta così in una lo può fare anche più alto più lunga come volete voi questa è l'idea che vi do adesso ve lo faccio vedere piano piano come venuta indossata e che tutto intorno questa belliccia sia la parte sopra che la parte sotto vedete questa intrecciatura senti come bella vedete come ripare tutto il nostro collo nella nostra maglia meglio oggi la nostra bambola praticamente ha deciso di ballare un po vedete come bella niente questa è la nostra idea della nostra del nostro scaldacollo adesso ve lo faccio vedere sia con la camicia lasciata libera ve lo faccio vedere in diversi modi guardate un po ecco vedete questo è un altro modo da poter indossare tutto in alto coprire fino alla parte del collo da sotto in su sul sul mento vedete vedete come bella adesso la faccio vedere in lunga il nostro scaldacollo che si può utilizzare anche come sciarpa vedete si può indossare anche così senza mettere nulla la camicia solo per coprire il corpo il collo e la parte sotto vedete all'angolino vedete come bello a parte ravello come scaldacollo e anche come si scaldacollo ma lungo letti come tipo una sciarpa poter mettere una camicia normale e mettere questo così che ci riscalda adesso vi faccio vedere come viene indossato con la maglia che avevamo fatto identica al nostro filato se vi ricordate quello con la pelliccia adesso vi faccio vedere come viene messa con la maglia ok come avevo detto vi faccio vedere adesso come viene indossato con la maglia vedete com'è bella adesso ve lo faccio vedere più vicino come viene bella indossata e ho fatto il completo vedete come bella adesso piano piano vi faccio vedere anche come sta bene nella parte del collo alzato net bella tiene bella calda e come fa il completo della nostra maglia vedete com'è venuto bello tiene bello caldo bello pesante lavorato e con questa pellice che dai tocca nella legge leo chi vuole fare la maglia dipende lavoro questo scaldacollo è veramente bello bello bene cosa dire passiamo al lavoro bene per fare questo bellissimo lavoro io ho utilizzato di nuovo il filato titanic color sfumato e se vi ricordate era 50 per cento di lana 50 per cento di acrilico grammi 400 metri 900 però vi volevo ricordare che io ne ho utilizzato 160 perché avevo fatto 240 g lessive ricordate quello con la pelliccia e per cui il rimanente mi erano rimasti circa 160 grammi di filato e per questa bellissima ci ha poi utilizzato 150 mi è rimasto questo pochino nello sfumato di questa marca qui qua c'è scritto che da utilizzare con l'uncinetto le tre tre e mezzo ma io ho voluto utilizzare l'uncinetto le 5 perché lo volevo fare molto morbida poi è anche uno filato già bello spesso per cui va bene anche un 5 ok e di questo quale utilizzato totale l'ho finito tutto 150 grammi come dico mi è rimasto questo perché avevo fatto già la maglia giletto 240 grammi se vi ricordate e poi ho utilizzato circa 50 grammi queste le 50 grammi che mi è rimasto della pelliccia letta allora per trovare questo con questo gomitolo qua questi gomitoloni perché un gomitolone da 400 grammi basta andare su facebook e cercare salvatore di prisco sono sull'anamania che sono sempre loro naturalmente se non riuscite a trovare basta io adesso metterò un link dove potete direttamente andare sul sulla loro pagina e troverete tutte le novità che ci sono ok per trovare loro hanno anche tipo questa pelliccia anche colorate non lo so adesso non ricordo bene per cui potete guardare o chiedere a loro e vi diranno tutte le cose che hanno bene e niente cosa dire adesso passiamo al lavoro ok diciamo subito che questo lavoro è un multiplo multiplo di 3 catenelle ok 3 catenelle io metto su 200 1 catenelle naturalmente usando un filato così spesso e con l'uncinetto come ripeto del 5 ok poi se ho usato l'uncinetto più piccolo mettete più catenelle sempre il multiplo di 3 catenelle ok dipende voi come la volete fare un po grande un po piccolo come scaldacollo decidete voi l'importante che sapete che il multiplo di 3 io in totale metto 200 1 catenelle dopo aver messo 200 1 catenelle voi io ne ho messo solamente 42 perché vi voglio far vedere subito il lavoro perché sapete io l'ho fatto questi giorni che ci sono state le feste allora piano piano l'ho lavorato adesso vi faccio vedere come fare ok andiamo alla prima catenella iniziale andiamo a fare una maglia bassissima ok così chiudiamo in cerchio adesso facciamo un giro di maglie basse per cui entriamo facciamo una catenella una catenella rientro e vado a fare una maglia bassa e questo è il nostro primo punto vado nella catenella successiva ok vado a fare un'altra maglia bassa vado nella catenella successivo e da fare un'altra maglia bassa vedete ogni catenella sottostante andiamo a fare una maglia bassa così ogni catenella sottostante una maglia bassa ok così chiudete al cerchio come vi ho fatto vedere poi alla prima catenella fatto una catenella rientrati andato a fare una maglia bassa ogni catenella sottostante devo fare una maglia bassa vedete così totale dovete avere se avete messo 200 e un catenello dovete avere 201 maglie basse ok perché sapete che è un multiplo di 3 ok andiamo a finire tutto il giro così di maglie basse bene ho fatto tutto il giro di maglie basse vedete adesso vado alla prima catenella iniziale noi abbiamo fatto la maglia bassa entro e vado a fare una maglia bassissima e questo è il nostro primo giro e abbiamo chiuso adesso facciamo un primo giro perché le maglie basse non è il primo giro è solamente una base ok facciamo 3 catenelle 1 2 3 rientro dove ho fatto le 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte non chiuse allora vi faccio vedere 3 catenelle prendo il filo rientro tiro il filo così e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro prendo il filo lo tiro e lo lascio sull'uncinetto e sono già due volte prendo il filo rientro e lascio il filo sull'uncinetto e abbiamo fatto tre volte vedete e abbiamo totale 2 4 6 punti e 1 con le 3 catenelle 7 punti vedete 1 2 3 4 5 6 7 adesso chiudiamo con una catenella così vedete abbiamo fatto il puff e chiamiamolo puff ok poi vado prendo il filo salto 1 2 maglie basse 2 maglie basse ok 1 2 vado alla terza maglia base e vado a fare di nuovo quello che ho fatto prima prendo il filo lo tiro e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro pre lo riprendo e faccio il secondo punto vedete prendo il filo rientro e faccio il terzo punto abbiamo totale sempre 7 punti 1 2 3 4 5 6 7 vedete prendo il filo vado a fare una maglia vado a chiudere tutte le maglie con una catenella 1 poi faccio una catenella separazione rientro dove ho fatto il puff rientro e vado a fare la stessa cosa prendo il filo lo tiro e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro tiro il filo e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro lo tiro e lo lascio sull'uncinetto adesso vado a chiudere tutti e 7 punti con una catenella così vedete così praticamente facciamo il puff intrecciato prendo il filo salto di nuovo 1 2 maglie di base vado alla terza e vado a fare di nuovo lo stessa cosa faccio il puff entro tiro il filo e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro tiro il filo e lo lascio sull'uncinetto prendo il filo rientro lo tiro e con adesso andiamo a chiudere la tutazzetta i punti i fili che chiamiamoli punti ok totale dobbiamo fare tre volte questo puff con una catenella ok faccio una catenella di separazione prendo il filo rientro dove ho fatto il puff per tre volte dobbiamo farlo entro tiro il filo ed è uno prendo il filo rientro tiro il filo e due prendo il filo rientro ed è tre vedete totale tre ne troviamo sette fili sull'uncinetto 1 2 3 4 5 6 7 adesso chiudo con una catenella così vedete e abbiamo fatto il puff letto come viene così di nuovo salto 1 2 vado alla tezza ma la fare di nuovo e puff entro prendo il filo e faccio già uno scusato lo rifaccio vedere scusate allora scusatemi prendo il filo salto 2 maglie di base vado alla terza entro e vado tiro il filo e lo lascio sull'uncinetto vedete ne abbiamo già 1 2 3 vedete prendo il filo rientro e questa è la seconda volta vedete e tiro il filo prendo il filo rientro tiro il filo e abbiamo fatto la terza 8 totale vedete ci troviamo sette punti 1 2 3 4 5 6 7 prendo il filo e vado a chiudere da tutti i punti con una catenella vedete così una catena in separazione di nuovo prendo il filo rientro dove ho fatto il puff e faccio di nuovo un altro puff tiro il filo ed è uno prendo il filo lo rientro tiro di due prendo il filo rientro tiro il filo ed è tre vedete e ci troviamo sempre sette punti e chiudiamo con una catenella tutto così vedete questo è il nostro lavoro di nuovo prendo il filo salto 2 maglie di base vado alla terza e vado a fare il puff e entro faccio un punto entro prendo il filo rientro faccio un altro punto sempre senza chiudere prendo il filo rientro ma da fa la tutte e sette punti con una catenella così metto una catena di separazione e rientriamo dove abbiamo fatto il puff rientro ma da fa la stessa cosa 1 prendo il filo di nuovo due tiro prendo il filo rientro 3 e tiro e chiudere tutte e sette punti con una catenella metto così facciamo tutto il giro così saltate due maglie di base è andata la tezza entrate prendete fine entrate tirate il punto e l'uno prendete filo di nuovo rientrate tirate filo e 2 prendete il filo rientrate e 3 tirate il filo adesso chiudere tutte e sette punti diciamo le maglie ok poi una catenella normale una catena di separazione prendo il filo di nuovo rientro e vado a fare di nuovo il puff alle 3 1 rientro 2 rientro 3 così adesso chiudere tutte e sette punti e con una catenella così facciamo tutto il giro così è facilissimo vedete dobbiamo fare sempre questo lavoro sono arrivato alla fine vedete ho fatto il puff con una catena separazione puff di nuovo chiuso vedete saltiamo saltiamo adesso 12 andiamo alla terza vi ricordate che abbiamo fatto le 3 catenelle noi adesso entriamo dove abbiamo fatto il puff rientriamo e andiamo a fare anche qui il puff 1 rientro sempre dove ho fatto il puff all'inizio 2 prendo il filo rientro e faccio 3 letta adesso chiudo con una catenella così poi vado dove c'è le 3 catenelle 1 2 3 allatezza entro vado a fare una maglia bassissima e questo abbiamo chiuso il nostro primo giro vedete adesso rifacciamo il secondo giro che è sempre uguale non cambia nulla facciamo le 3 catenelle 1 2 3 entro qui dentro nel puff neto entro qua dentro e vado a fare il puff 1 rientro 2 rientro 3 e chiudo con una catenella così e questo è il nostro di nuovo il primo giro è sempre questo giro non ci sono prima secondo giro si va avanti sempre così adesso andiamo nel puff successivo vedete entriamo nel puff al centro e andiamo a fare i puff 1 2 e 3 e chiudo con una catenella così una catena separazione prendo il filo rientro e vado a fare di nuovo il puff 1 2 e 3 chiudo con una catenella e abbiamo fatto il nostro secondo puff vedete vengono così intrecciate i puff andate nella nel puff successivo andate a fare di nuovo i due puff entriamo facciamo il primo al centro 1 rientro 2 rientro 3 adesso chiudo a tutti i punti con una catenella così una catenella separazione rientro e vado a fare di nuovo i puff 1 rientro 2 rientro 3 adesso chiudo da tutti i sette punti con una catenella i punti con una catenella net così questo è il nostro lavoro vedete come bello poi vado nel puff successivo e voglio a fare di nuovo la stessa cosa al centro entro tiro faccio 1 rientro tiro 2 prendo il filo rientro 3 adesso chiudo con una catenella tutto così una catenella separazione di nuovo rientro e poi lo fa di nuovo il puff 1 rientro 2 rientro 3 chiudo da tutti i punti con una catenella così dobbiamo sempre fare questo lavoro qui quando arrivate qui vado a fare tutto il giro di nuovo arriviamo qui ve lo faccio rivedere di nuovo come chiudere l'inizio del nostro lavoro ok facciamo di nuovo tutto il giro così ok sono alla fine del giro vedete come è venuto bene ok adesso prendo il filo e vado a chiudere il mio lavoro entro dentro ci sono le 3 catenelle vado direttamente qua nel foro ok dentro qui nel foro e vado a fare il mio ultimo puff entro uno rientro sempre nel foro due rientro nel foro tre e vado a fare una chiusura con una catenella così poi vado alla terza catenella 123 vado a fare una maglia bassissima questa è la nostra chiusura si entra sempre nel foro quando finiamo il giro entrate nel foro fatto il puff e poi la terza catenella iniziale fate una maglia bassissima adesso di nuovo 3 catenelle 123 entrate qui nel foro letta entrate andate a fare puff 1 rientro 2 rientro 3 e chiudete da tutte e sette punti con una catenella poi passate nel foro successivo andate a fare di nuovo i puff primo puff poi una catena separazione di nuovo puff così via dopo vi dirò quanti giri ho fatto io ok a dopo bene adesso facciamo il boldo ho chiuso con la catenella bassissima faccio adesso una catenella ok rientro ma da fare una maglia bassa e questo è il nostro inizio ok poi vado dove c'è il puff entro e faccio una maglia bassa ok vado direttamente qui nel foro faccio una maglia bassa vado qui dove c'è il foro qui direttamente faccio una maglia bassa vado dove c'è il puff questo puff qua faccio una maglia bassa così vado qui faccio una maglia bassa salto il puff va dal centro qui faccio una maglia bassa così vado dove c'è il puff questo qui faccio una maglia bassa così vado qui faccio una maglia bassa così vado qui nel foro faccio una maglia bassa salto questo puff va dal centro e faccio una maglia bassa così vado qui dove c'è il puff faccio una maglia bassa così vado qui nel foro faccio una maglia bassa salto questo puff va dal centro e faccio una maglia bassa qui faccio una maglia bassa Casi vado nel foro faccio una maglia bassa salto questo puff vado al centro faccio una maglia bassa qua in questo puff e faccio una maglia bassa entro faccio una maglia bassa ma dove foro faccio una maglia bassa stato questo buffo va dal centro faccio una maglia bassa vado qui dove c'è il foro nel puff faccio una maglia bassa qua il foro faccio una maglia bassa satto questo puff va dal centro faccio una maglia bassa in questo puff qui entro e faccio una maglia bassa così vado qui faccio una maglia bassa ma dal centro vedete sappiamo questo un po fendiamo nel centro facciamo una maglia bassa nel puff e successivo questo qui facciamo una maglia bassa qui nel centro facciamo una maglia bassa ma del centro qui faccio una maglia bassa nel puff faccio una maglia bassa così per tutto il giro vedete facciamo così per tutto il giro fino alla fine dove arriviamo abbiamo iniziato ok andiamo a fare tutto il giro così bene siamo alla fine del giro vedete qui qua c'è la maglia bassa vado qui nel puff entro faccio una maglia bassa vado qui direttamente dove c'è l'inizio della maglia bassa entro ma da fare una maglia bassissima e chiudo così il nostro lavoro net e qua è il nostro lavoro adesso vado a prendere quello che ho fatto io così vedete bene il lavoro io totale ho fatto uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci giri ok dieci giri con mi dico il i centimetri quanto ne abbiamo fatto totale sono 15 centimetri 15 centimetri e mezzo perché poi adesso vi faccio vedere come fare il nei maglie basse ok totale quasi 16 centimetri diciamo quasi con l'uncinetto che ho usato io del 5 ok chi vuole può ancora proseguire farla più più larga dipende da voi come volete fare adesso vi faccio vedere come fare il bordo con le maglie basse poi iniziamo a utilizzare la pelliccia ok adesso andiamo a fare il bordo io l'ho chiuso come vedete conti la tagliato già il filo adesso andiamo a fare chi vuole come ho detto prima può proseguire fa quello che vuole ma non è adesso andiamo a usare la pelliccia questa qui ricordate che abbiamo già fatto la maglia adesso mi ha detto riprendere il filo l'inizio ok e vi faccio vedere come iniziare a fare una parte dei bordi ok a dopo entriamo dove abbiamo fatto la chiusura entriamo ok prendiamo il nostro filato entriamo così io vado a fare direttamente il nodo perché come sapete sento una pelliccia poi non si vede bene per cui per evitare che non mi trovi faccio un bel nodo ok così è utilizziamo naturalmente il segno appunti perché ci serve solamente per capire dove siamo perché essendo che non si vede perché è una pelliccia evitiamo entro di nuovo prendo il filo faccio la catenella faccio una catenella rientro e vado a fare una maglia bassa e qui metto il mio segno appunto per capire che questo è l'inizio della mia il mio lavoro un attimo chiudiamo bene ecco qui appunto adesso saltiamo una maglia bassa andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa largo saltiamo una maglia base andiamo nella successiva facciamo una maglia bassa larga milette così saltiamo una diamo nella successiva facciamo una maglia bassa saltiamo una maglia bassa andiamo nella successiva facciamo una maglia bassa questo serve solo per il primo giro è poi lavoriamo sempre ogni bandina bassa che vediamo saltiamo una maglia bassa andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa lavorato largo naturalmente saltiamo una maglia base diamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, saltiamo una, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, così, saltiamo una, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, due, saltiamo una maglia bassa, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, così, saltiamo una, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, saltiamo una, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa vedete così lavoriamo tutto il giro così a dopo bene sono alla fine di giro come vedete dove c'è il mio segno appunti è rimasto vedete una catena una maglia di base ed è giusto ho detto come perfetto lavoro adesso vado direttamente dove c'è entro così dove c'è segnapunti entro perché così non perde punto capito tolgo il segnapunti ok e vado a fare una maglia bassissima 1 e 2 e questo è il nostro tutto primo giro vedete come bello ok adesso facciamo lavoriamo tutte le maglie basse che abbiamo fatto per cui e prendono faccio una catenella rientro e vado a fare una maglia una maglia bassa e metto il mio segnapunti per non sbagliare che non lo perdi ok così vado ora dove c'è la maglia bassa entro che vado a fare una maglia bassa vedete se toccate qua il vuoto entro faccio una maglia bassa per questo vi ho fatto saltare il punto vedete qua il vuoto entro faccio una maglia bassa vado nel successivo entro faccio una maglia bassa meno accorgete perché c'è il vuoto vedete entro e faccio una maglia bassa entro e faccio una maglia bassa ogni successiva di maglia bassa sottostante facciamo una maglia bassa vedete qua il vuoto entro faccio una maglia bassa di nuovo vado nella successiva maglia bassa sottostante faccio una maglia bassa lette qua una maglia bassa vedete che qua c'è il vuoto entro e faccio una maglia bassa per quello che vi ho fatto saltare perché così sentite bene la morbidezza del lavoro vedete così fate tutto il giro così entro di nuovo una maglia bassa vado nel successivo maglia bassa faccio una maglia bassa nella successiva entro faccio una maglia bassa nette come sentite i punti si sentono bene facciamo tutto giro così io adesso non so però quanto gire ne faccio me lo dirò dopo adesso finisco questo giro poi dove c'è segna punto metto se la maglia bassissima e faccio un altro giro ancora non so se faccio tre quattro giro ve lo dirò dopo bene io totale ho fatto quattro giri mi ha detto come molto bene non vado avanti perché mi va bene così ok adesso questo è un filato vado dove c'è all'inizio del lavoro entro e vado a fare una maglia bassissima ok tolgo segna punti e vado a tagliare il filo che non mi serve più taglio faccio un giro per sicurezza e vado a chiuderlo bene adesso vado a nascondere il filato e poi ci ritroviamo qui per fare anche la parte sotto nel nostro lavoro uguale a questo qui ma dopo bene siamo all'altra parte del lavoro entro qui così io ho iniziato il lavoro e anche qui entro faccio fermo il lavoro con vedete un nodino perché sento la pelliccia meglio evitare ok e adesso entriamo facciamo una catenella rientro e faccio una maglia bassa e qua mettiamo il nostro segnapunte così sappiamo che questo è l'inizio del lavoro adesso andiamo qui dove c'è una maglia bassa questa catenella qui entro faccio una maglia bassa fatto questo gruppo qui entro qui al centro faccio una maglia bassa fatto qua entro qui dove c'è vedete le maglie basse il il nostro puff è stato questa parte qui vado qui faccio le maglie larghe vedete così almeno lavoriamo largo anzi no troppo largo scusate allora vado qui anche qui al centro faccio una maglia bassa vado qui dove ci sono il puff faccio una maglia bassa vado qui vado a fare una maglia bassa nel puff una maglia bassa così qui dove c'è vedete al centro della maglia bassa faccio una maglia bassa nel puff una maglia bassa stiamo lavorando tutte le maglie basse qui dove c'è la maglia bassa entro così vedete entro direttamente faccio una maglia bassa ok del puff entro faccio una maglia bassa qui dove c'è vedete la maglia bassa entro così vedete come entro così e faccio una maglia bassa dove c'è il puff faccio una maglia bassa io vi sto facendo vedere direttamente come iniziare il lavoro per non mi sbagliare dove c'è la maglia bassa entro faccio una maglia bassa dove c'è il puff entro così al centro e faccio una maglia bassa dove c'è la maglia bassa così qua all'angolo faccio una maglia bassa qui nel puff entro così faccio una maglia bassa qui vedete che c'è il centro della maglia bassa entro faccio una maglia bassa dove c'è il puff faccio una maglia bassa così per tutto il giro quando arrivate qui fate una maglia bassissima e poi fatti di nuovo 4 giri dove abbiamo lavorato le maglie basse lavoriamo le maglie basse uguale a questo che abbiamo fatto prima ok la stessa cosa bene facciamo per quattro giri totale così beh anche io ho fatto vedete quattro giri di maglie basse uguale come abbiamo fatto se vi ricordate all'inizio e ho quattro giri di qua adesso io sono arrivata alla fine chiudo con una maglia bassissima e vado a tagliare il filo chiudiamo bene beh adesso prendo l'ago e vado a nascondere questo filato che non ci serve più ed essendo pelliccia dobbiamo stare attenti come mettiamo nel lago ok ma di chiudere bene tanto vedete è una pelliccia non si vede però voi cercate di chiudere bene ok non essere sicuro di chiudere bene perfetto taglio un po ne lascia un pochino tanto sento pelliccia così questo è il nostro lavoro finito adesso lo metto bene ve lo faccio vedere abbiamo chiuso tutti i due lati vedete una parte qua tra tutto chiuso vedete come bella vedete come venuta bene questa bella sciarpa io non so come la chiamerò se sciarpa scaldacolle perché alla fine possiamo metterla come vogliamo vedete una legge la e la mette come vuole aspettate un attimo che non faccio vedere sono brava io ammette letta ne usiamo anche come scaldacollo che come bella non la mette come vuole lo faccio vedere sul manichino come viene indossata e vi faccio vedere anche la maglia che abbiamo usato lo stesso filato e ho voluto fare un un completo ok niente cosa dire spero che vi sia piaciuto questo piccolo progetto in quest'anno nuovo del 2018 iniziamo bene con quest'anno spero tanto anzi vi ringrazio tutti gli auguri che ho ricevuto sia su youtube sia su blog sia su facebook su whatsapp siete state tantissime io spero che anche voi avete un anno buono pieno di serenità di amore di pazzo e soprattutto e tanta voglia di lavorare sono quello che dico sempre e nuove idee speriamo che abbiamo tante nuove idee che non è facile trovarne sapete che siamo in tanti a lavorare dobbiamo sempre cercare di fare qualcosa sempre di bello per tutti voi niente e io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro ciao ciao al prossimo tutorial ciao